Sono la dottoressa criminologa detective Fiorella, Anna Fiorella e sono qui per indagare su un caso molto, molto, molto complesso. Venga lei, venga lei a un'aria sospetta. Come si chiama? Tipico nome da criminale. E cosa fa nella vita? Lo supponevo. E dov'era ieri sera? Ed era da solo? Lo dicono tutti. Passiamo al saldo. In questa validetta c'è l'oggetto del reato che abbiamo trovato a casa sua, presso il suo domicilio. Lo tenga e lo faccia vedere bene al pubblico. Tu! Pari o dispari? Dispari. Voi vi state chiedendo cosa c'entra questa domanda con un'investigazione. Beh, ecco. tu! Quale numero dispari da uno a tredici? Tredici. Tredici. Tu! Che colore, rosso o nero? nero. Tu! Che seme nero tra picche o fiori? Picche. Abbiamo individuato una carta, il tredici, di picche. Dietro ogni carta c'è il nome di un oggetto che serve per uccidere una persona. Ne veleno. E molti altri. Ora, prendi la valigetta. E venga qui. E pian piano, così, cerchi il tredici di picche. In questa investigazione ci vuole molta sianità. Però si sbrighi. aspetto. e non c'è il tredici. Dove fate scegliere proprio questa carta? Il tredici di picche, eccolo. Ecco il tredici di picche. l'unica carta in cui dietro c'è scritto coltello. Io sono entrata con questa valigetta chiusa ed è sempre rimasta chiusa. E se in questa valigetta ci fosse un coltello, lei non uscirebbe da quella porta da solo, ma insieme alle forze del loro. Ora, apro la valigetta e faccio vedere bene il contenuto. Un coltello. Un coltello. Grazie. 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 Grazie.